Ciao a tutti, mi chiamo Magda, abito in New York City e in questo momento mi trovo a Flux Studios, nell'East Village, dove con la mia banda, banda Magda, stiamo finendo di registrare il secondo album intitolato Hierachina. Nell'album ci saranno nove canzoni in cinque lingue, entre le quali anche una canzone in italiano, senza paura di ornella vanoni. Pochi giorni fa abbiamo iniziato una raccolta a fondi tramite Kickstarter attraverso la quale speriamo di portare a termine l'album. Contribuando potrete riceverete una copia del nuovo CD, magliette e un sacco d'altre cose interessanti. Mi auguro che la musica vi piace e che possiate contribuare alla realizzazione del progetto. Mille grazie per la generosità e mille baci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.